Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata del Medio Oriente d'Intorni Show. Come ogni sabato ci concentriamo su tre libri veramente interessanti e da acquistare magari durante questo periodo un po' più complicato, dove stiamo un po' più a casa. E oggi, come avrete letto dal titolo, parliamo di tre libri dal Libano. Specifico che però uno di questi, il primo che andremo a vedere, in realtà non è completamente libanese, nel senso che si chiama Un Taxi per Beirut, ma la scrittrice Rada Samman in realtà è Sirianet. Questo libro lo inserisco in questa lista, che ricordo non è una classifica né niente, ma è semplicemente una lista di libri che vi consiglio appunto, per svariati motivi. Il primo di questi è oggettivamente perché è scritto molto bene, cioè è proprio uno di quei libri che io ho letto in tipo tre giorni, me lo sono divorato perché ha anche delle pause abbastanza regolari, ma che ti permettono di leggere tanto, fra virgolette. Sono quei capitoli corti che si fanno avanzare velocemente e poi oggettivamente lo stile è bellissimo. La storia è molto interessante, ma qui c'è il secondo dettaglio, ovvero la data di scrittura. Il libro come avete visto si chiama Un Taxi per Beirut e effettivamente è stato scritto molto vicino alla data molto importante per Beirut e per tutto il Libano, ovvero l'inizio della guerra civile. Il libro andò appunto in stampa veramente qualche mese prima dello scoppio ed è molto interessante perché effettivamente è un comunque grande libro che è stato scritto poco prima e che dà degli spunti veramente veramente interessanti. Adesso ovviamente ci concentriamo un po' su quello di cui parla, ovvero la storia di cinque diversi personaggi che prendono tutti insieme un taxi e che appunto arrivano a Beirut in quel momento lì. Non vi sto qua a spiegare troppo la fine che fanno perché è un grande spoiler diciamo, però vi dico che ci sono cinque come vi dicevo prima e tendenzialmente tutti faranno una brutta fine, chi più chi meno. E due ragazzi in particolare un uomo e una donna sono dei protagonisti veramente importanti e tra l'altro con loro si vedrà proprio come se Beirut si trasformasse in Sodoma di Sodoma e Gomorra appunto. E' molto interessante perché c'è comunque un fortissimo legame con il sesso anche che è molto presente nel libro e che trasmette proprio quell'immagine lì. Devo dire che effettivamente è il libro perfetto anche se si vuole leggere quella, non tragedia, però quell'evento biblico molto particolare. Quindi detto questo consigliatissimo. Passiamo al successivo. Il successivo è un libro un po' particolare che parla di diverse cose ma parla soprattutto di Libano ed è di uno degli scrittori più noti, più apprezzati e più famosi in generale di tutto il Libano contemporaneo, ovvero Amin Maelouf. Questo libro che effettivamente non è proprio piccolissimo come vedete parla sostanzialmente di alcuni antenati di Amin Maelouf e della loro storia che lui ritrova dopo che gli muore, se non mi sbaglio, il padre. Quando muore il padre gli vengono portate delle lettere che appunto appartenevano alla famiglia del padre e che riguardano essenzialmente il nonno, il bisnonno e tutta la loro storia di fatto. E quindi Amin Maelouf scoprirà un sacco di cose, fra cui ad esempio che il nonno era un insegnante, molto particolare fra l'altro, ci dà un affresco molto interessante del Libano prima del boom economico e quando ancora di fatto resisteva fra virgolette l'equilibrio ottomano, che è un periodo molto interessante. Ed è un periodo ancora più interessante, almeno questo è il motivo maggioritario per quale io lo metto in questa lista, perché ti dà anche un affresco non soltanto del Libano ma di tutti i libanesi, anche quelli che emigrarono in America. Molti di noi ovviamente immaginano che solo gli italiani, gli irlandesi e i tedeschi sono magari emigrati in America, eppure soprattutto in Sud America ci sono grandissime comunità invece di arabi che sono emigrati. Uno dei casi più celebri è quello di Shakira, ma ce ne sono moltissimi altri. E questo libro, appunto, in questo libro Amin Maelouf andrà anche in Sud America, in particolare a Cuba, ma anche tipo a New York, e scoprirà un sacco di cose sia sulla sua famiglia in particolare, che è quello che più gli interessa, ma in generale su tutta la storia libanese. E devo dire che è uno di quei romanzi, fra virgolette, del popolo, non so come dire, la storia di una nazione. Effettivamente qui c'è moltissima. Se siete interessati, circa il 1800 del Libano, mi sembra che sia la fine dell'800, questo è un capolavoro. Secondo me è scritto anche bene, però devo dire che lo feci leggere a mio nonno e lui non apprezzò particolarmente. Quindi, non so dire, a me colpi molto e mi piacque tanto da, appunto, metterlo in questa lista. Però, vedete voi, ho detto questo. Passiamo al successivo. Ah, di Amin Maelouf ci sono anche tantissime altre opere. Semplicemente io ho letto questo e quindi consiglio questo. Il successivo è un libro un po' particolare. È sicuramente il meno romanzo di tutti e tre, ma è un libro che, secondo me, è veramente illuminante. È uno di quei libri che vanno letti e che spiegheranno moltissime cose, ovvero Infelicità Araba di Samir Kassir, come vedete. Sostanzialmente questo libro ha fatto la storia. E poi più simile... non si vede niente, vabbè. Oh, qua si... ah, vabbè, non si vedo io, tanto mi vedete tante volte, vabbè. Comunque dicevo, questo libro ha fatto effettivamente la storia perché è più un testamento, addirittura, rispetto a un libro vero e proprio. Samir Kassir, intanto, è uno degli intellettuali... è stato, fino al 2005, uno degli intellettuali più interessanti, più particolari della scena libanese. È sicuramente stato uno dei suoi pensatori più interessanti, tanto da pensare troppo ed essere ucciso, appunto, nel 2005. Detto questo, il libro è capolavoro, cioè... è proprio... intanto spieghiamo il titolo, se non si capisce giustamente. Infelicità araba. Samir Kassir riflette su quella sorta di infelicità che, appunto, tutto il popolo ha... tutto il popolo arabo nutre e ha a partire da quando sono arrivati a colonizzarlo, di fatto. È un'infelicità che lo vede nella sua testa inferiore rispetto al mondo europeo, rispetto agli altri mondi, fra virgolette, che lo costringe quasi a guardare al passato, perché solo al passato può trovare un po' di gloria, e che è talmente pervasivo, talmente fisso nel suo pensiero, nella sua mente, da non riuscire a liberarsene e quindi a esserne sempre succube. Con questo libro, invece, Samir Kassir spinge qualsiasi essere umano, ovviamente in particolare gli arabi, a cercare la propria modernità, a cercare una modernità, fra virgolette, che non sia né il copiare paro paro gli europei, ma neanche il copio il passato perché il passato era figo. No. Lui dice che bisogna intanto rivalutare anche i secoli, fra virgolette, bui del mondo arabo, perché lui dice effettivamente comunque sono successe cose, anche di belle, non sono solo disgrazie, solo tragedie. E in più, ovviamente, bisogna vedere, sì, per carità, le cose belle del passato, ma non tanto copiarle paro paro, giustamente, ma afferrarne lo spirito, il principio, il concetto che è quello, la cosa vera che fece fare il progresso, non ovviamente il fare effettivamente quello, non è una formula magica, che quindi se fai determinate cose avvengono determinate robe. Detto questo, oltre a quello, è bellissimo perché afferma anche una figura di intellettuale libera dal pensiero, diciamo, di altri, libero dalle ideologie, libero anche di pensare la sua, fra virgolette, o meglio, non tanto della propria ideologia, ma il proprio modo di giudicare il resto e di vedere il mondo. È veramente un testo affascinante e devo dire che è uno di quei testi che, quando tu lo leggi, soprattutto nel mio caso, ritrovavo un sacco di pensieri che io avevo sempre magari avuto e che lui effettivamente è riuscito a rappresentare in maniera incredibile. È veramente un testo sensazionale. Se siete arabi dovete leggerlo assolutamente, anche perché poi, in questo caso, come vedete, è bello piccolino e quindi se legge anche molto in fretta, molto di piacere ed è un testo perfetto se avete un po' di tempo perché comunque richiede un minimo di riflessione, però è qualcosa a cui possono arrivare veramente tutti e anche quelli che non sono arabi. Detto questo, questa lista finisce qui. Io vi saluto, vi ricordo che ci sarà anche settimana prossima, devo un attimo capire come fare. È molto probabile che siano dei autori arabi sciolti, quindi uno dalle Iraq, magari uno dall'Arabia Saudita. Adesso vediamo, non ho ancora stabilito nel momento in cui sto registrando il video. E vi ricordo anche che questa settimana ancora parliamo di libri con tre libri per capire da dove proviene di fatto il terrorismo. Tre scrittori, uno marocchino, uno pakistano e uno egiziano per capire al meglio questo fenomeno e soprattutto appunto vedere da cosa nasce. Io vi saluto, alla prossima. Ah, prima di lasciarci, ultima cosa. Se siete interessati ai contenuti appunto di Medioriente e Intorno e contenuti di questo tipo, vi ricordo di iscrivervi al canale Telegram perché è la cosa più efficace e vi arriverà subito l'articolo e il video appena è disponibile e anche ovviamente alla pagina Facebook e Instagram. Ma di questi tempi io non ho tanti soldi e quindi non ho troppo da spendere in pubblicità. Se andate su Telegram è più sicuro. Detto questo, vi saluto per davvero. Alla prossima.